Questo è un letto elettrico d'adegenza speciale. Ha una rete che può girare facilitando la discesa e la salita dal letto. Le sue dimensioni sono di 215 cm di lunghezza per 102 cm di larghezza e la portata è di 150 kg. È un dispositivo medico certificato. È detraibile al 19%. Vediamo adesso le sue caratteristiche principali. Premendo un tasto sul telecomando andiamo a ruotare la rete per portarlo in posizione di poltrona. Come potete vedere nella posizione poltrona la persona ha la possibilità di sedersi per poi essere portata nella posizione letto. Abbiamo le classiche movimentazioni dei letti da ospedale. Si alzano le gambe per favorire la circolazione, la parte della testa per poter pranzare a letto fino a quasi 90 gradi e l'intera altezza del letto da 14 cm da terra fino a 80 cm da terra. Compresa nel letto è l'asta alza persona, posizionabile in tre punti e regolabile in altezza. Si può anche posizionare a destra della persona. Le ruote con freno permettono di posizionare e bloccare il letto dove si desidera. Le sponde hanno una funzione contenitiva o di supporto per la persona nel posizionarsi a letto. Si sbloccano con un comodo bottone e sono posizionabili su due altezze. Il letto acquistabile colliva al 4% per gli aventi diritto. Vi basterà contattare la nostra assistenza clienti.